Ciao a tutti e benvenuti negli studi televisivi di Piccole Magazine TV. Siamo qui con Giorgio Montanari che è il nuovo mister della squadra del Sant'Agata Futsal 2004. Allora Giorgio, ti aspettavi questa chiamata? Assolutamente no, anche perché ho poca esperienza da primo allenatore e negli ultimi due anni ho fatto solo esperienze da secondo. Sono sincero, non me l'aspettavo, tanto inaspettata quanto comunque mi ha inorgoglito questa chiamata di Luca e di tutta la società. E che impressioni hai fino adesso della squadra? Della squadra poca, perché alcuni giocatori li conosco, altri li ho solamente visti in qualche raduno. La società invece mi ha fatto da subito una buonissima impressione, uno staff affiatato che da subito ha cercato di farmi capire l'obiettivo che si voleva raggiungere insieme, concordando con quelle che erano le mie idee e quindi ci siamo trovati subito in accordo su tutto. Dimmi, prima mi parlavi di obiettivi, che obiettivo ti proponi tu per questa stagione, per quest'anno? L'obiettivo è sempre quello di migliorarsi, cercare di fare un gradino in più, di fare un salto di qualità, che non vuol dire solo vincere più partite, ma vuol dire anche cercare di migliorare sul campo, sotto il profilo del gioco, questo è il punto fondamentale di questa stagione e poi il campo dirà quello che abbiamo fatto durante l'anno. Perfetto, adesso avevo una domandina un pochino più piccantina, il vostro sponsor è Piccole Tasgressioni che crede tantissimo in voi, che cosa ne pensi tu? Ma sai, subito quando Luca mi ha citato il main sponsor è chiaramente un pochino di, come dire, curiosità la suscitata, poi dopo non dico altro. Sei andato a vedere i siti? Non mi esprimono commenti. Manteniamo il mistero allora. Esattamente, anche perché il mistero deve mantenere un profilo di un certo livello. Giusto, benissimo. Allora grazie mille Giorgio per essere stato con noi. Grazie a te Alessia. Grazie.